Il stomaco resta in mezzo? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Non puoi dare la mano. Non puoi dare la mano? Sì, sì. 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 Questa la ritagliamo e la pubblichiamo come rettiliano al posto di comando della sua strada. Sì. 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 Grazie. Grazie. Oh, we haven't started yet. Oh. It was good. It was good. Surprisingly good. Okay. Oh, thank you. Thank you. Thank you. That's the last one. Oh. Tada. Thank you. Ciao. Oh. And happy.